Nuovo colpo di scena nei vertici di Banca Carigia. Raffaele Mincione, che detiene oltre il 5% delle quote della Banca Ligure, ha chiesto la revoca del Consiglio di Amministrazione di Carigia a seguito delle recenti dimissioni del Presidente Giuseppe Tesauro e dei consiglieri di amministrazione Francesca Balzani e Stefano Lunardi. Mincione ha inviato una lettera al CDA per chiedere la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il prossimo settembre, con all'ordine del giorno appunto la revoca del CDA della Banca e la conseguente nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Intanto l'amministratore delegato di Carigia Paolo Fiorentino ha dato mandato ai propri legali di rappresentarlo per la tutela della sua reputazione nei confronti di Giuseppe Tesauro per le affermazioni che lo stesso ha rilasciato negli ultimi giorni sui presunti rapporti fra lo stesso Fiorentino e il costruttore Luca Parnasi.